Questa piscina ha controlli di temperatura viventi! Steve, che è troppo caldo, e Jake, che è troppo freddo! Stabiliscono la temperatura! Aiuto! Chi sceglieresti? Il focoso Steve che accende le fiamme con una sola mano! O il gelido Jake, che congela tutto ciò che lo circonda con un solo respiro! Wow! Guardala! Sarà mia! Non così in fretta, Steve! Rilassati! Andrò io a parlare con quell'adorabile signora! Ciao, sono Jake! E posso fare qualcosa di veramente fantastico! Lasciami aggiungere del ghiaccio al tuo drink! Fa così caldo qui! Oh, guardali! Stai in guardia, ghiacciolo! Le cose stanno per farsi bollenti! Una bomba come quella ha bisogno di una bevanda calda! Sono Steve! Piacere di conoscerti! Questa ragazza sarà mia, ghiacciolo! Ti piacerebbe, fuocherello! Sembra che litighieranno per questa bellissima ragazza! Chi scegliere? Che dilemma! Ti stai annoiando sulla pista da ballo, Ronda? Facciamo nevicare! Wow, Jake! Che bello! Balliamo! È come se fossimo in una fiaba innevata! Ops! Quella fiaba è frozen! Rinuncia, Jake! Il caldo flamenco di Steve può sciogliere il cuore freddo di qualsiasi ragazza! Jake ha perso questo round! È stata una notte fantastica! Un sacco di balli divertenti! Ma è ora di salutarci! Ragazzi, siete entrambi dolci! Ma devo andare! È stato bello conoscervi! Hai la mia guancia! Pustione di secondo grado! Lascia che ti rinfreschi, Ronda! La mia pelle è come un condizionatore barbuto! Ciao, ciao! Ci siamo! Questa è guerra! Ops! Ho dimenticato di darvi il mio numero di telefono! Lo scriverò su un tovagliolo! Questo numero è mio! No, non lo avrai! Va bene, ora me ne vado! È mio! Lascialo andare, Steve! Brucerà il tovagliolo! Feu, l'ho spento in tempo! Ti manderemo un messaggio, Ronda! I ragazzi si mettono subito al lavoro! Devo inviare dei messaggi interessanti a Ronda! Cos'è? Fuoco? Oh, questo deve essere quel ragazzo caloroso! E chi è questo? Fiocchi di neve? C'è una valanga nel mio telefono! Jake manda anche i suoi emoji preferiti! Altri messaggi! Questi ragazzi si stanno impossessando delle mie notifiche! È troppo! Chi mi chiama nel cuore della notte? Pronto? Sono Jake! Ti ho svegliata! Tu cosa pensi? Cos'è successo al mio telefono? È ghiacciato! Sto dormendo! Chi è? Pronto? Ronda, sono Steve! Come va? Stai facendo qualcosa di divertente alle 3 del mattino? Ai! Scotta! Il mio telefono! Sicuramente non è stata una cold call! Pronto? Ronda? È caduta la linea! Guardare la TV insieme può essere così romantico! Ma non sempre! Ragazzi, guardate! Questo è il mio programma preferito sul riscaldamento globale! Non è interessante? Oh no! I miei amati iceberg si stanno sciogliendo! Questa è una tragedia! Wow, lo adoro! È così divertente! Il caldo sta vincendo! Non riesco a guardare! È così sconvolgente! Steve, smettila di ridere delle tragedie altrui! Povero Jake! Non piangere, andrà tutto bene! Sembra che Jake abbia pianificato tutto in anticipo! È così freddo e calcolatore! Un appuntamento in un bar? Ma Ronda non mi sta prestando attenzione! Il gelato aiuta sempre! Tieni! Grazie, Jake! Amo il gelato! Il gelato dà inizio alla nostra conversazione! L'hai già finito, Ronda? Ecco, prendine un altro! Ti piace? Eccone un altro! Serviti! È stata una cattiva idea! Ora Ronda ha la tonsillite! Conosco la migliore medicina! Il gelato! È un'idea orribile! Ronda ha bisogno di una zuppa calda! Fai attenzione! Ti aiuterò! Questa è una cura affettuosa e amorevole, Jake! Una bella conversazione! Ma chi è? Ha le tue spalle! Lei? Quella è la mia ex! Va tutto bene! Non preoccuparti! Tutto bene! Penso che stia ribollendo di rabbia! Forse dovremmo allontanarci! Non avresti dovuto far arrabbiare la ex ragazza! La sua gelosia è come un violento incendio boschivo! Jake, ti ho portato da bere! Chi è questa? Ronda, ti presento Polly! Siamo usciti insieme tempo fa! Ciao! Ok, vi lascio tornare alla vostra bella conversazione! Vai, vai, ragazzo dal sangue caldo! Attenta a non scivolare sul ghiaccio! Ops! Ragazzi, ho sete! Solo un secondo! Ecco un bicchiere d'acqua! Acqua? Questo è ghiaccio solido! Grazie mille, Jake! Ecco l'acqua per te! Questa era acqua, ma è evaporata tutta! Wow! A questo ritmo morirò di sete! Finalmente, Ronda può fare una passeggiata da sola! Ma i ragazzi la stanno già aspettando e hanno dei regali! Sarà interessante! Ronda, ciao! Ti stavo aspettando! Questo caldo bouquet è per te! No, grazie Steve! Noi siamo solo amici! Per favore, prendilo! Respira il profumo piccante! Ah? Ah! Al fuoco! Ah? Ronda, mia principessa di ghiaccio! Questo è per te! Un anello di ghiaccio! È perfetto per spegnere il fuoco sulla mia lingua! Non ho bisogno dei vostri regali, ragazzi! Noi siamo solo amici! Questi ragazzi caldi e freddi portano solo guai! Fermi! Non toccatemi! Signorina, stai bene? Wow! Sei un ragazzo normale! Non sei troppo freddo e non sei troppo caldo! Wow! Che fortuna! Posso passeggiare con te? Certo! Oddio! E noi? Ti sono piaciuti i nostri ragazzi? Allora commenta qui sotto e dici chi ti è piaciuto di più! Il gelido Jake? O il focoso Steve? E voi ragazzi? Iscrivetevi al nostro canale! Mettete like a questo video e fate click sulla campanella! Non perdetevi nessun nuovo esilarante video di Woohoo!